Musica Bella a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovissimo video Io sono NG47 E oggi siamo su Clash Royale Perché è appena uscito il nuovo aggiornamento E Stato per ricominciare finalmente ho trovato Una cazzo di regio in aria Nel baule della corona Allora stavo per iniziare a registrare Ho appena bullo della corona L'ho aperto E guardate cosa ho appena trovato Il bocciatore, la nuova carta che hanno appena aggiunto E dai video non mi sembra Tanto scarsa Qui ci sono gli spiriti di ghiaccio E tutte queste belle cosettine qua Qua non è cambiato assolutamente niente Qua abbiamo il campo di prova Perché ora è qua E al posto del campo di prova c'è la TV Royale Allora vi faccio vedere Che cazzo sto facendo Allora intanto per ricominciare Appena è uscito il ragionamento Ho iniziato a giocare Sperando di finire in TV Royale Ma ovviamente l'ho perse tutte Tranne una che è quella che mi ha dato La vittoria per il bollo della corona Vi voglio mostrare La partita Intanto potete vedere l'arena Mando Per due Anzi facciamo per quattro Perché alla fine è giusto per far vedere l'arena Con questo mazzo qua Uso il minatore Lo butto avanti E ci metto magari dietro Il gigante Royale Così non viene targettato Direttamente alla torre Ma mi deve buttare lui qualcosa Per fermarmelo E infatti l'ho fatto anche tanto danno Poi ho messo male il cannone Infatti Il suo moschettino è andato avanti Lì c'era quel cazzo di stregone di ghiaccia Che mi rompe veramente le palle In una maniera assurda Che sembra immortale ogni volta Qui ho attaccato Con un botto di roba E qua sono riuscito a andare Su un 1-0 Qua Ha giocato Bene Perché quel cazzo di minatore al 2 Non si è riuscito a tirare giù Siamo andati Ai supplementari Qua sono partito subito bene Io infatti L'ho tolto tanta vita Poi lui giocava Con la mia stessa tecnica Praticamente All'ultimo qua C'era Tutto il gigante di invita Ho buttato la fireball Il minatore E ho vinto E quindi Questa qua è la nuova arena Ora Andiamo a vedere La nuova leggendaria Che si può trovare Nella nuova arena Che sarebbe la 8 Quindi l'arena leggendaria Diventa la 9 Qui possiamo trovare Il boscaiolo Abbatte alberi di giorno E dà la caccia al tronco di notte La sua bottiglia Si rovesce E sparge furia Dappertutto quando muore Questa qua È veramente forte Secondo me Qua cosa dice Durato 8 secondi Arancio 5 Più 40% Effetto furia E beh Non è male Qua c'è il bocciatore Che ho preso prima Praticamente Avanza molto lentamente E colpisce Tirando le rocce Che poi rotolano E se si è abbastanza vicini alla torre Arrivano anche la torre Questi qua Sono al contrario Degli spiriti del fuoco Grande genio Si chiamano spiriti del ghiaccio Comunque Hanno l'effetto Dello stregone di ghiaccio Quindi Rallentano le truppe E fanno del dando Che non è moltissimo Però Li rallentano Quindi può essere Un'alternativa Per fare il marmari Cerchiamo Ah In arena 6 L'hanno messo il tronco Mamma mia Cioè da che non aveva Niente Nessuna carta Cioè 3 leggendari Rallentano le 6 Va bene Allora Quando arriva la torre Fa 96 di danno E invece Fa 240 di danno Alle truppe Una bottiglia di furia Rovesciata Ha trasformato Un innocente Pezzo di legno Nel tronco Ora cerca di Placare la sua sete Di vendetta Schiacciando tutto ciò Che incontra E' un'ottima alternativa Alla scarica E poi Direi che Non hanno aggiunto Altro qua Come carte nuove Ora Questi Sono I tornelli Ovviamente Sono tutti pieni E Non riuscirò a partecipare Molto facilmente A qualche domanda Tra l'altro Penso Avete visto Quanto Cazzo Costano Ora vi faccio vedere Qui vabbè Il nome torneo Di iscrizione Qua si può mettere Una password Qualsiasi La durata Che il massimo E Esattamente 3 giorni Preparativi Il massimo E 2 ore Da un minimo Di 15 minuti E invece Per il torneo La durata Parte da un minimo Di un'ora A un massimo Di 3 giorni Qua c'è il primo premio Che da 30 carte Al primo Al secondo 20 Al terzo 15 E i migliori 20 riceveranno Un premio In base Alla loro Posizione Qualificata E così E così Avanti E ogni volta Aumentano Carte E il costo Guardate qua 500 1000 2000 5000 10 2000 20 50 100 250 Ok Che ti da 15000 Carte E possono giocare 1000 Giocatori Però Sono 800 euro Per un torneo E Non so se sapete tutti Quanto ci vuole Per aprire questo baule Ci vuole ben 14 giorni E Se tu hai un baule Da aprire Non puoi partecipare Ad altri tornei Ecco Cosa di Scandalone Allora qua I tornei vengono creati Usando la tua posizione Per garantire Il matchmaking Più rapido E la maggior numero Di spettatori Guadagnare trofei Da tornei Combatti Per i trofei Dal torneo Per scalarne La classifica Scusate un attimo Sblocca E non i baule Dal torneo Ottieni i premi Migliori Conquistando Posizioni più alte In classifica Scontri Utilizzando Il regolamento Da torneo Quello che c'è Per la micca E vuole Praticamente Ugol Identico Limite Livello re 9 Limite livello comuni 9 Limite livello rare 4 Limite livello epiche 4 No scusate Rare 7 Epiche 4 E Limite livello legendare 1 Durata supplementare 3 minuti E Boh Non penso di Magari si Un torneo Dove spendo 5 euro Posso anche farlo Ma si vedrà Di certo Non quello da 800 euro Ve lo assicuro Non lo Posso fare Qua Per la nostra gioia Hanno aggiunto Nuovi Cazzo di obiettivi Era loro Il primo obiettivo Ricompensa torneo Vince 1000 carte Da tornei E questo qua Non è tanto facile Se si fanno solo tornei Da 5 euro Se invece si fanno quelli da 800 Si può fare Abbastanza facilmente Crea torneo Si può fare Tu spendi 5 euro Ti danno 500 gemme Lo fai Te ne ridanno Quindi Diciamo che Tu spendi Però poi te ne ridanno Le gemme Quindi Non è proprio Una cosa Equa Però Meglio di niente E poi Partecipo a torneo Che sono 5 gemme E stare così Vedere gli altri obiettivi Poi Questo qua Ecco qua Questo qua è il baule Della corona Si vabbè Il baule Arena 8 Praticamente Non cade Sensatamente Un cazzo Ti vanno una carta in più E finita lì Sono curiosi a vedere Quello oro Invece com'è Tra 6 minuti Un baule Omaggio Se troverò qualcosa Trovate la clip A fondo video E poi Qua c'è una cosa carina Che si possono ordinare Le carte Per costo di enesi Che non è male Perché si vanno Dalla Meno costosa Alla più costosa E diventa un po' più facile Trovarle magari Oppure per rarità Ah è vero Il leggendario ce l'ho lì Quindi Non la può mettere Questo qua È l'altro deck Che usavo Che prima di questo update Del cazzo Diciamo Perché Vabbè A parte che ogni volta Che giocavo Mi dava sempre Il leggendario P Che non riuscivo mai A fermare Sto cazzo di mastino Quanto lo odio A un certo punto Lui non aveva estrattori Io avevo Tre estrattori Mi ha schierato Tre mastini Come cazzo ha fatto Non lo so E io non riuscivo Ad avere truppe Con tre estrattori Vabbè Poi Qua con quell'altro deck Qua ho fatto Un più 32 Un meno 40 Il mastino Io lo soffro In una maniera assurda Con quei deck Non riesco mai A fermarlo E Per rarità Ah per arena Come ce l'avevo prima E per elisi Direi che posso anche Lasciarlo così Per elisi Oppure per arena Che è più figo Così ce l'ho Tutte in ordine Tanto diciamo Che sostanzialmente Le carte ce l'ho tutte Tranne le leggendarie E gli spiriti Ma sappiamo tutti Che le leggendarie Non le troverò mai Quindi Non c'è da preoccuparsi Allora Microfono Tu resti qua E io non ti rompo Ok Tanto qua ho donato 8000 carte E a me lo dispiace A me lo dispiace Anche perché Sono quasi livello 10 E boh Anzi 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 Allora Mettiamo sto stronzo E andiamo a provarlo Qui perché io In baltaglio Mi dispiace Ma C'ho paura Vedendo Buona fortuna Grazie al cazzo Tanto Maestro whisker Allora Carichiamogli Si ributtiamo Subito Il tipetto Qua dietro Eccolo qua Mamma mia Quanto è spesso Ma enorme Sto Sì Oddio L'hanno sciuttati A parte che Nei video che avevo visto Su internet Faceva anche danno Tanto danno Il problema è che Era l'uno Allora Mettiamo il minatore qua Sì sì Vabbè Ma tanto sappiamo Che sei stupido Campo di prova Però se non mi buttate giù Tutta la torre Allora Vediamo quanto danno fa Si avvicina lì Tira sta roccia Boom No sì Fa Molto danno Secondo me Sì sì È forte È forte È forte C'è anche tanta vita Perché Si è fatto tutto Il campo di prova Allora No Mini Peck È bello forte Allora Vediamo se riusciamo A schierarne Tanti Poi Dopo farò un altro video Dove cercherò Di schierare Più Bocciatori possibili Allora Mini Peck Minatore qua a caso Così non buttano giù Troppo la torre Però la Fireball Lì ne toglie Eh Anche se all'uno Rimano Cioè Anche se all'uno Comunque regge Tanto qua Mini Peck Lì Sto facendo il devasto Sì vabbè Eccolo Il bocciatore Eccezionale Sì vabbè Ecco la strega lì Cosa mi rappresenta Eccolo Si sboccia Si sboccia Ma fa 200 di danno E' un po' strano Perché La palla Prima che tocchi Toglie già Del danno Non mi piace tantissimo Questa cosa Sinceramente Potevano farla un po' meglio La grafica Vedete Non tocca e fa danno E poi scoppia Cioè allora Appena tocca Scoppia la cosa E poi Fa tutta l'animazione Comunque abbiamo vinto Sì sì Non mi dispiace affatto Il bocciatore E' veramente forte Dopo io vi vedo Se farci un Se riesco a farci un neck Tanto veniamo Allora Tanto scriviamo Qui Ho trovato Il bocciatore Nel baule Nella coluna Perfetto Facciamoli rosicare E boh Non so sapere questa qua Ma sì Apriamoci questa Così possiamo trovare Sti qui E questo Così possiamo Ah È vero Quante carte posso donare Sempre 30 Ah ma non cambia niente Alla fine D'arena Questa porca troia Arena 8 D'arena 7 Posso donare sempre Le stesse carte Vedete Anche le casse Non cambiano Credo Ah no sì Le casse cambiano Oh Grazie Però Vabbè Non è male Comunque aver trovato Subito questo tizietto qua Praticamente mi mancava Buona corona L'ho fatta Vediamo qua Tre carte Gemme Questo Ah può tirarmi gli spiritini No Infame Va bene ragazzi Direi che questo video qua Può finire Vi ringrazio moltissimo per la visione Spero che Vi sia piaciuto come vi ho spiegato Diciamo questo aggiornamento E ah Ultima cosa C'è stato anche il bilanciamento Penso sappiate Queste cosette qua E le cose che ne ho aggiunto Sono queste qua Comunque Quest'arena qua Parte da 2300 coppe Fino a 3000 E sostanzialmente L'arena 7 va Da 2000 A 2300 Abbastanza facile da superare Vediamo Magari Vi porterò una Road Tu arena 9 Comunque Grazie ancora moltissimo per la visione Ne ci vediamo A un prossimo video Bella Ciao